Ciao a tutti sono giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi Charlene di Monaco, quel suo fitto mistero avvolto tra arrivi, partenze e condizioni di salute che non si riescono a definire in maniera chiara Ora, per il principe Alberto, è arrivata un'altra, dolorosa situazione Punto lunedì 29 marzo, abbazia di Westminster. I membri della famiglia reale inglese hanno preso parte ad una messa in ricordo di sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo, scomparso il 9 aprile del 2021 I rappresentanti delle più importanti monarchie europee hanno partecipato alla funzione e tra questi era presente anche il principe Alberto di Monaco Qualcosa, però, non è sfuggita coloro che erano presenti all'interno dell'abbazia Il re di Spagna, Filippo, aveva accanto sua moglie Letizia, così come il re del Belgio, Filippo, era affiancato dalla consorte Matilde, mentre il principe Monegasco era desolatamente solo, ancora una volta non accompagnato La principessa Charlene anche in questa occasione è risultata assente Come mai? Charlene di Monaco, questa non doveva fargliela punto dal suo ritorno a Monte Carlo, nel novembre scorso, la principessa Monegasca non è mai comparsa in pubblico Negli ultimi giorni molto scalpore hanno suscitato delle foto scattata all'aeroporto di Nizza dove si vedrebbe la principessa Charlene pronta a salire su un aereo privato, destinazione svizzera Si è allora ritornati a parlare di fuga della principessa da Monaco e di un principe Alberto decisamente seccato, perché nuovamente tradito da sua moglie, che non compare più al suo fianco da tempo Secondo quanto riportato dal magazine Closer, la principessa Charlene sarebbe però ritornata in Svizzera, destinazione Zurigo, per effettuare un check-up completo, programmato dallo stesso staff medico che l'ha seguita per ben quattro mesi Da novembre 2021 a marzo 2022, dopo che la principessa era stata colpita della grave infezione otorinolaringoiatrica nel suo paese natale, il Sudafrica La principessa infatti starebbe seguendo un programma riabilitativo in cui è prevista, da un lato, una dieta per farle riacquistare peso, attualmente infatti Charlene peserebbe non più di 50 kg e, dall'altra parte, un percorso dove, attraverso lo yoga ed il nuoto, possa ritrovare un buon equilibrio psicofisico Ecco quindi che un costante monitoraggio medico della principessa Monegasca risulti assolutamente indispensabile E Alberto di Monaco? Alberto di Monaco e quelle voci ricorrenti Intanto il principe Alberto di Monaco non può certo sorridere Da troppo tempo non ha accanto a sé la principessa consorte, né nella vita quotidiana ed ancor meno nelle occasioni istituzionali Oltretutto ha anche lo sgradevole compito di parare tutte le voci che continuano a parlare della crisi che starebbe attanagliando il suo matrimonio Come il settimanale tedesco Bunte, che ha rilanciato queste voci parlando di presunte minacce di divorzio della principessa Charlene al principe Alberto La principessa, secondo quanto riportato dal settimanale, vorrebbe passare la sua convalescenza a Monaco non a palazzo, bensì nella residenza in collina dei Grimaldi, Rock Angel, insieme ai due gemelli, Jacques e Gabriella Lontano, dicono i bene informati, da quegli impegni ufficiali che non ha mai amato e, sottolineano i maligni, anche lontano dal principe Alberto Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video